Ciao a tutti, mi chiamo Romano Nazareno, ho conosciuto SOS tramite internet, ero un po' scettico come tutte le cose nuove, ma sono partito un anno e mezzo fa da solo e mi sono trovato benissimo. Un lavoro stato perfetto, accoglienza altrettanto, seguita da un'equipe di dottori molto bravi e professionali con assistenti che parlano italiano, molto importante per chi siede sulla poltrona. Altre cose non so cosa dire, ma diciamo che è tutto bene, io mi sono trovato bene e adesso mangio bene e non ho più problemi, grazie a SOS. Raccomando a voi che vi ascoltate questa critica odontobiattica. Ciao e arrivederci.